Musica Vaccini, la corsa contro il tempo continua ma deve fare i conti anche in Toscana con la scarsità delle dosi. Luglio sarà un mese decisivo per arrivare agli obiettivi previsti. Sui vaccini adesso è ufficiale, si insedia la nuova commissione di inchiesta. La volevano le opposizioni già il 7 aprile scorso per far luce soprattutto sul primo periodo delle vaccinazioni in Toscana. Ma in quella stessa occasione è stato deciso poi a maggioranza di creare invece una commissione speciale. Quest'ultima però non è mai riuscita a partire davvero e ora viene di fatto cancellata. Il Consiglio regionale nella sua ultima seduta ha affrontato anche il nodo del nostro recovery plan, insomma delle risorse che arriveranno anche nella nostra regione. L'Assemblea adesso sarà direttamente coinvolta con un'interlocuzione costante con la Giunta. Tutte le commissioni hanno lavorato in questi giorni per preparare gli atti che saranno discussi nella prossima seduta. Intanto nella seconda estate con la pandemia la Toscana prova a rialzarsi, a programmare turismo, cultura, spettacolo. La Commissione Sanità anche nell'ultima settimana ha esaminato il rapporto sui vaccini, sull'avanzamento della campagna cominciata con tante incertezze evidentemente e che ora deve fare i conti con la difficoltà nuova di approvvigionamento delle dosi. Vediamo i numeri previsti di qui al 28 luglio, 8.300 dosi di AstraZeneca, 12.000 di Johnson & Johnson, 135.800 di Moderna, 477.360 di Pfizer, meno delle attese, meno di giugno. Note positive però al completamento della campagna per le over 80 ai più fragili caregiver. Qualche difficoltà in più c'è tra chi ha tra 60 e 80 anni. Per l'assessore Bezzini circa 100.000 persone mancano all'appello e per loro non mancherebbero invece le dosi, si usano AstraZeneca e Johnson & Johnson. Il segnale positivo semmai è quello dell'ulteriore indebolimento della curva dei contagi, che ci porta ancora saldamente in zona bianca, senza troppe restrizioni. Un messaggio importante anche per tutti i cittadini, per tutti gli operatori economici, che va nella direzione di riacquisire una normalità, che dobbiamo lavorare perché non si perda neanche a partire dalle fine dell'estate prossima, di questa estate, e su questo è importante raggiungere l'obiettivo della vaccinazione di tutti i toscani entro la fine di settembre, un obiettivo che nonostante alcune difficoltà nella fornitura dei vaccini, comunque penso sia assolutamente raggiungibile. Ebitabilmente, superata la pandemia, superata l'emergenza, dovremo affrontare altre situazioni altrettanto gravi. Io spero che questo primo passo verso la normalità sia veramente una prima pietra verso una situazione di nuova serenità per tutti. Intanto l'ufficio di presidenza ha deciso l'istituzione della commissione di inchiesta che hanno voluto tutte le opposizioni. All'inizio in realtà era una proposta sostenuta da Fratelli d'Italia, poi di fronte al fallimento evidente della commissione che era stata decisa il 7 aprile al termine di una seduta a fiume durata fino a tarda sera, il fronte di chi la richiedeva si è allargato. Quella era, doveva essere semplicemente una commissione speciale, è stato decisivo il fallimento delle votazioni per eleggere la presidenza tra stenzioni e veti incrociati. Queste sono le nostre immagini dell'ultima, infruttuosa riunione. Era il 26 maggio. I conti con la pandemia li facciamo tutti, adesso però ci sono ingenti risorse europee a disposizione, quelle di Next Generation EU e quelle dei fondi del settennato. La Toscana vuole avere più voce in capitolo e anche il Consiglio regionale lo vuole, per raggiungere su scala locale gli obiettivi, le finalità che sono indicati da Bruxelles. Quella della transizione verso un'economia più ecologica, del superamento delle differenze tra territori e tra genere, di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale. Per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia importante nei confronti dei territori, di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province, i suggerimenti che verranno dalle imprese e crediamo che se ci sarà un board di alto profilo in grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza e alle priorità per raggiungere questi obiettivi, noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità, di queste risorse che arriveranno e che sono fondamentali non soltanto per la ripartenza dopo la pandemia, che ha ovviamente acuito le criticità, ma anche per rilanciare un sistema economico, un sistema sociale, quello toscano che sicuramente può avere nella Regione un punto di riferimento importante per la sua ripartenza. La cabina di regia dovrà avere un ruolo di saldatura raggiunta in Consiglio. Insieme alla mozione del Partito Democratico ne viene approvata un'altra, simile della Lega. Oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei toscani. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi, ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito e immediatamente a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta, Consiglio ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa regione. Anche il gruppo di Fratelli d'Italia esprime soddisfazione per la decisione finale. Si capisce che almeno nell'individuazione dei progetti c'è la volontà di trovare un'intesa più larga possibile. Ci trovo soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto. Oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana. La creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi mancava, a nostro modo di vedere, il coinvolgimento del Consiglio regionale. Noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta, abbiamo presentato gli emendamenti che sono stati recepiti e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia la volontà di... a quantomeno ci sia una volontà di dialogo. Coinvolgere anche i territori, è quanto chiedono un po' tutti e la cosa viene anche scritta nel documento approvato. A me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso, possa essere un progetto e progetti condivisi da soggetti pubblici e privati ma una coprogettualità che faccia partecipi della Regione Toscana delle esigenze dei territori al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finale, tempi ed esecuzioni. Quindi una discussione che entra nel merito ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha approvato il proprio progetto. Sul tema particolare attenzione viene posta anche dagli altri gruppi naturalmente il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. La ripartenza potrà avvenire solo se ci saranno progetti efficaci e davvero utili alla Toscana. Ma certo ne continueremo a parlare anche grazie al lavoro della Commissione Europa. Intanto il Presidente Gianni vede spirali positivi. L'importante è l'anticipazione dei 25 miliardi, la possibilità quindi di vedere partire subito progetti che chiaramente i primi sono quelli a cui ha dato a livello di priorità il Governo e sarà un po' il Governo a sceglierlo. Spesso viene considerato il PNR come qualcosa da dividere per 20, per le 20 regioni. Nulla di più sbagliato. L'approccio con cui l'autorevolezza del Presidente Draghi si è rivolto all'Europa è l'autorevolezza di un Capo di Stato che naturalmente avrà tutta l'applicazione nell'indirizzare per il meglio quello che sarà già la prima anticipazione e quindi i primi progetti. Quindi va vissuto in chiave nazionale e in chiave nazionale l'importante è che la Presidenza del Consiglio scelga subito i progetti giusti per essere credibili con l'Europa e questo significa progetti cantierabili da subito perché siano completati entro il 2026. È pronto ormai per arrivare all'esame di tutti i consiglieri il bilancio del Parco di San Rossore che ora vede l'avvicendamento alla Presidenza sui conti. Il bilancio, almeno quello del 2019, passato in Commissione è in equilibrio. Esame rinviato nella stessa Commissione Ambiente invece per la nomina del Presidente. La Commissione Sanità prosegue anche le audizioni in vista degli Stati Generali della Salute di novembre. Adesso è toccato ai rappresentanti del Lanci, quindi dei Comuni, che chiedono più attenzione alla programmazione delle zone. Vuole invece valorizzare sempre più la via francigena alla Commissione Europa che valorizza anche l'iniziativa Road to Rome 2021. Infine, la Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose, nata dopo le indagini sullo smaltimento dei residui con Cia, richiede che si insedi al più presto l'osservatorio regionale della legalità. Richiesta che il Presidente Mazzeo accoglie, velocizzerò l'insediamento. È uno strumento molto utile. Intervenendo a Telegram Ducato nella trasmissione quindicinale Mio Consiglio, lo stesso Mazzeo era tornato sul tema della grande infrastruttura stradale più critica in Toscana, la Firenze-Pisa-Livorno. Sia la Tirrenica sia la FIPILI vanno modernizzate. Se noi vogliamo che la Toscana cammini tutta ad un'unica velocità, è importante che la Tirrenica passi dall'autostrada ad Anas, è importante che venga nominato un commissario, e lo stesso sulla FIPILI è importante cercare le risorse. Non basta fare un pezzettino per volta, risistemare i problemi strutturali che ci sono, serve modernizzare quella strada, serve renderla più sicura, serve dare ai cittadini e ai pendolari che si muovono ogni giorno dalla costa al centro, dal centro verso la costa, la possibilità di muoversi in sicurezza. Si sono mosse anche i sindaci in questa direzione, hanno fatto un appello forte, praticamente tutti i sindaci attraversati dalla FIPILI. Ma credo che sia corretto, questo è un modo per sostenere l'azione del Presidente Gianni, che è andato a chiedere lo stesso al Ministro Giovannini. Noi ci aspettiamo che il Ministro sostenga questa proposta, vorremmo mettere in piedi una task force fatta da Regione, fatta da parlamentari, insomma è una sfida collettiva. E' un segnale di speranza quello che arriva in questi giorni da un piccolo comune al confine tra Toscana, Umbria e Lazio, San Casciano dei Bagni. Riapre la terrazza, questa è la segna di cultura, tradizione, imprenditoria, spettacolo, sport, con 15 appuntamenti che sono stati presentati qui in Consiglio regionale. Cercheremo di animare questo comune piccolo perché siamo solo 1600 abitanti con un'offerta culturale di grande qualità, con grandi personaggi, affrontando temi diversi. Quello che vogliamo fare è dare visibilità a quello che è un comune piccolo e quindi anche se ha tantissime ricchezze vive un po' di tutte le difficoltà che i piccoli comuni vivono e vogliamo farlo con dei contenuti importanti come quelli culturali. Vogliamo un po' raccontare l'Italia dalla nostra piazza. La Toscana è piena di perle. Molti toscani non conoscono le perle dei nostri territori. Invito tutti a venire a conoscere Siena, a conoscere San Casciano dei Bagni. Sono veramente delle perle che purtroppo la Toscana è grande e non si conoscono. E anche a Collodi, luogo simbolo per i bambini di tutto il mondo, c'è una novità importante. Prende forma il progetto del Parco Policentrico Collodi Pinocchio. La fondazione, già proprietaria del Parco Momentale, acquisisce infatti lo storico giardino di Villa Garzoni, la Casa delle Farfalle e altri terreni. E questo sarà il primo tassello per il progetto finale. La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha acquistato materialmente la Villa 20 giorni fa, 25 giorni fa. Quindi sono qui a darvi questa notizia che una fondazione diventa proprietaria di la Villa e abbiamo inteso insieme come riuscire in un percorso di tempo a dargli denari che in un qualche modo dovrà avere. Ovviamente di tutta questa operazione il Ministero è all'ordine del giorno e quindi abbiamo la certezza che in un qualche modo, essendo un bene così importante, ci aiuterà in questa iniziativa. Quindi il motivo di oggi principalmente è quello di dire che un bene così importante viene garantito alla collettività perché è la fondazione della collettività e che quindi avremo anche subito, abbiamo già avuto l'immediato interesse della sovrintendenza e la prossima settimana faranno un primo collado perché dentro ci sono qualcosa come 2.000 e passa metri quadri di riaffreschi del 1700 con personaggi importanti. Noi vogliamo fare la nostra parte, come ho detto anche al Presidente, abbiamo iniziato a farlo con le risorse e abbiamo messo per valutare la progettualità della variante intorno al passaggio, come sapete, di tanti automezzi che danno risposta al tessuto imprenditoriale che gravita intorno a quel territorio. Per attirare turismo serve avere una viabilità che funziona, serve avere dei soggetti pubblico privati o privati che decidono di investire sul territorio, serve che ci sia voglia di scommettere sul futuro. Pinocchio è un simbolo della nostra Italia, è un simbolo della nostra Toscana nel mondo e credo che dovremmo lavorare sempre più tutti insieme, in sinergia, ognuno per quanto di propria competenza, per fare in modo che quel luogo, un luogo che tocca il cuore di tutte le bimbe e di tutti i bimbi, non solo toscani, possa essere sempre più accessibile, sempre più fruibile e iniziative come queste vanno esattamente in questa direzione. Noi ci ritroviamo puntualmente fra sette giorni, venerdì 9 luglio, sempre alle 21.15, sempre dopo il Tg della Sera di Telegram Ducato. Tg della Sera di Telegram Ducato.